Poi recupera in due tempi il pallone, Terracciano si firma il tunnel, Terracciano poi avrà tutta faccia. Teano lascia passare il pallone e vince il contrasto con Sulemana poi cerca di allargare sulla sinistra secca anticipato. Il pallone è a togliere il pallone numero 9 del Verona, poi però la ripartenza del Roma viene subito. ... Grazie a tutti 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 Parisi Grazie a tutti 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 Grazie a tutti